amici ben trovati a marchi brevetti ed intorni la sezione la camera di commercio di milano vi mette a disposizione per capire un po meglio questo intricato e talvolta complesso mondo della proprietà intellettuale dieci sono gli argomenti sviluppati in dieci video come questo e oggi parliamo di software non lo facciamo da soli ma con il nostro esperto alberto de ross dello studio notar bartolo gervasi di milano caro ingegnere ben trovato grazie prima di capire come si brevetta un software ci vuole raccontare se è possibile brevettarlo la domanda che un imprenditore si deve porre è come proteggere il risultato dell'attività di ricerca di sviluppo che si fa nella sua impresa siamo nel settore ovviamente dell'ICT dell'information and communication technology e quindi il prodotto tipico è un programma per il laboratore quello che normalmente chiamiamo software e la legge mette a disposizione due strumenti per proteggere il software il diritto d'autore e il diritto brevettuale ma mi faccio capire si tratta di due alternative no 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 in molti casi direi nella maggioranza dei casi lo stesso software può essere protetto sia con il diritto d'autore sia con il diritto brevettuale visto che sono due parti separate anche se complementari partiamo dalla prima per non fare confusione iniziamo dal diritto d'autore il diritto d'autore nasce per il fatto stesso che si crea l'opera che poi si tratta della progettazione di un programma o della codifica la protezione vale ugualmente anzi si può vale sia per il sorgente cioè quello che materialmente il programmatore scrive sia per l'eseguibile cioè quello che viene generato dal computer alla luce della del programma fatto dall'autore ma anche non solo nella sua complessità anche solo per una parte del programma purché sia una parte rilevante ecco che cosa occorre fare per ottenere questo tipo di protezione ma volendo si potrebbe non fare nulla nel senso che proprio perché nasce con la creazione dell'opera uno potrebbe accontentarsi di averla creata però in realtà è molto meglio procedere al deposito della si alla siae la siae un sezione apposita per il deposito dei programmi per il laboratorio in modo tale che in caso di contestazioni future uno possa stabilire con certezza assoluta cosa è stato creato e quando è stato creato capisco quindi questo è il motivo per cui è sempre vietato e non è consigliabile copiare i programmi ma le chiedo che cosa succede se un inventore inventa crea un programma simile ad un esistente e poi magari lo vende un programma che più o meno fa le stesse cose ma nulla nulla perché i principi e le idee alla base del software non sono oggetto di protezione del diritto d'autore quindi si può tranquillamente fare quello che lei diceva prima bisogna però stare attenti a una cosa che è vietato fare la decompilazione del software cioè il software può essere guardato dall'esterno quindi si può capire come funziona o quali sono le sue funzioni ma bisogna limitarsi a guardarlo dall'esterno non guardarlo dall'interno non smontarlo quindi verrebbe da dire che i principi e le idee di un software non sono mai brevettabili no anzi proprio per questo bisogna usare il brevetto perché il brevetto si può consentire di proteggere i principi e le idee ma allora scusi perché tante discussioni sulla protezione dei software e perché non tutti i principi e le idee sono brevettabili la regola fondamentale per discriminare tra ciò che è brevettabile non è brevettabile nel settore del software è il carattere tecnico in senso stretto mi sembra una definizione giurisprudenziale cerchiamo di spiegarla tutti che cosa significa carattere tecnico in senso stretto guardi glielo spiego subito però prima ci tengo a rifarmi alla definizione di invenzione che vale non solo nel software vale in generale l'invenzione è una soluzione tecnica ad un problema tecnico e l'enfasi evidentemente è sulla parola tecnico le faccio l'esempio che avevo promesso questo è un cellulare un comune comunissimo cellulare e si sa che ogni tanto è difficile vedere bene quello che appare sullo schermo e allora i produttori i progettisti del cellulare hanno pensato di fare un pezzettino di software il quale si accorge quando i due polpastrelli delle dita si appoggiano contemporaneamente sul touchscreen e si accorge anche quando questi vengono allontanati gradualmente tra di loro e di conseguenza ingrandisce l'immagine sullo schermo questo è un tipico caso in cui c'è un problema tecnico la visualizzazione sullo schermo ed una soluzione tecnica tutta questa possibilità di accorgersi del movimento dei polpastrelli e di ingrandire l'immagine scusi cambiando esempio un programma per tenere la contabilità allora è brevettabile? questo no nel senso che nel suo insieme un programma della contabilità risolve un problema economico e quindi è un problema umano però però bisogna fare un però all'interno del programma ci possono essere anche più di un pezzettino di software quindi che sono soluzioni tecniche a problemi tecnici tipo quelli che abbiamo dell'esempio di un secondo fa quindi in questo caso questi sono perfettamente brevettabili quindi se ben capisco quando si sviluppa si crea un programma nuovo ci potrebbero essere al suo interno tante piccole parti tecniche brevettabili assolutamente sì però però non basta perché a questo punto intervengono le altre condizioni di brevettabilità quelle che peraltro valgono per tutte le invenzioni cioè novità il livello inventivo quindi le due caratteristiche nuovo e originale implicano che esista già qualche cosa di esistente non è sufficiente andare a vedere ciò che è brevettabile ci saranno delle liste delle soluzioni brevettate sì e sono relativamente facili da vedere la grossa difficoltà grossa difficoltà diciamo è che la legge in italia come ovunque nel mondo parla di stato dell'arte e lo stato dell'arte è tutto quanto è reso disponibile al pubblico in qualsiasi forma quindi non solo perché è brevettato ma perché è pubblicato o perché è venduto quindi questa è una difficoltà molto maggiore perché le banche dati da questo punto di vista sono assai più lacunose insomma verrebbe da dire erroneamente che è praticamente impossibile brevettare e proteggere un software erroneamente in quanto la prima cosa da fare è quello di sempre ripensare alla definizione cioè il brevetto è la soluzione tecnica un problema tecnico quindi non un'idea generale una volta che si fa questo passo già le difficoltà si riducono poi rimangono naturalmente le difficoltà legate al carattere tecnico in sento sostretto di cui dicevamo prima e alla loconosità delle banche dati però tutto ciò non è non è insormontabile bene grazie allora l'ingegner De Ross dello studio Notar Bartolo e Gervasi di Milano amici noi abbiamo concluso questa sezione dedicata alla brevettabilità del software io vi aspetto con gli altri nove video della camera di commercio con marchi brevetti ed intorni per altri nove argomenti da esplorare da Roberto Rasia grazie a tutti e buon lavoro